il il minestrone spirituale ha deciso che al centro il mio essere c'è bile e gocce di cioccolato per farlo devi stare bene se hai tristezza o stress va tutto male questo benissimo non ti deve nascondere sempre eros senti ti sembra uno con dei problemi a fabio piace tanto e questo definiresti un problema sì perché perché tu sei un albero ficato nella terra fabio ha fatto il nido tra i tuoi rami ma lui ha le ali prima o poi volerà e tu non puoi andare con lui hai paura di questo no ti senti in colpa che lo tieni qua questo questo te l'ha detto l'intruglio sai quanti come te ho visto entrare uscire dal furgone fabio sempre sceglie qualcuno per non volare ma poi non dura